Invece ti volevo fare una domanda tecnica, negli ultimi anni diciamo le rendimenti di ricezione non coincidono sempre meno con le classifiche finali, merito dell'alto, di un accresciuto tasso tecnico in battuta o più della capacità di mettere palla a terra anche su delle ricezioni negative? Penso che ultimamente in generale si sia calato, non ci sono più giocatori abili, tantissimi giocatori abili in ricezione, basta fare una domanda, chiedere quali dei 3-4 giocatori si potrebbero comprare come ricettori ed è difficile arrivare a 3-4-5, per cui penso che questa sia un po' la caratteristica, poi c'è il discorso che molti allenatori preferiscono magari avere un giocatore in più, di attaccante forte che non è un buon ricettore, a volte questo porta risultati, altre volte no, però penso che questa sia proprio una problematica tattica, tecnica del minor numero di ricettori che ci sono proprio anche a livello mondiale, anche a altissimo livello, unito anche al fatto che anche nel palavoro femminile ormai la battuta sta ricoprendo un ruolo veramente molto importante. Grazie. Grazie.